vuole il bis le isole ombra sono state solamente niente nulla sta di mente ha preso non è vero bastano ma se tipo ingaggiate io vi auguro il tassi da voi si ma deve essere vai 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 ammazzalo se poi eh bella 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 sì no no ma va bene c'era gli ho applicato un po di roba possibile fermo ok ci sono i gianti ci sono sì mi sa che pure brand c'è sta però non c'ha creduto quello più che altro guarda giallo a tassi stai nei problemi a oddio ho doggiato dai vabbè ma dai purtroppo secondo me ormai ero morto ci sta che hai fatto il grabber provare a proteggermi ma ormai ero morto sì vendetta vera non finirò in galera hai visto la serie di zero calcare marco quella serie è un sì l'ho visto ovviamente ed è un right in the fields proprio cioè per ogni millennial proprio oddio arrivo arrivo oh my god oh my god bunny wu activated mad life eccetera vuole il bis le isole ombra sono state solamente niente nulla badimento ah preso non è vero bastano rosa datemi la visione su quel pedale oppure no e fa male quella madonna che crito ria ho fatto il crito della vita vai 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 la penta la penta la penta comunque non si vedo il nome della cazzone no no eccomi arrivo aspetta lo prendo lo prendo non ti preoccupa porca mignotta no eh non ho considerato la barriera va bene va bene va bene eh questo potrebbe essere un problema bello bello ok get out occhio eh vabbè scuretto quel champion con la rapido fuoco perchè lei bara signore anche ora ne tommo dietro I'm always broke venga venga signora catarigna oh ci arrivo ci arrivo ah ci sono arrivato eh 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 vieni qua vieni qua eh non torno oddio oddio ah merda eh non ce la faccio eh lo so lo so non c'è più un stupido catarina ha preso 800 reset però ha preso tantissimo tempo quindi va bene alimentari più che altro è stato un un porca m dal cuore eh scusi signor ok tiragli la carta bello e ti rubo tutti i minion succosi perchè tu hai la cartina gialla e non la puoi ora mi dire la ultima ha sbagliato il tempismo eh 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 è pelato col cerchietto raga ma sto jack se lo usa il suo tasto dojo oppure no eh 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 Yes Ragazzi così si gioca a Caitlyn Se volete essere super forti ma super belli Carriere tutti i game GG raga E signori all'ultimo momento Riesce a rubare l'NVP A Sir Gasbo che si è fatto un bugio di Così per carriere l'early game E niente Te l'ho voluto lasciare Comprendo I 34k danni contro i tuoi 18 Che cazzo dicono Ok scusami E raga questo è partner riot Based MVP Così 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 Guardi Così Grazie a tutti.